Sono degli adolescenti, per la maggior parte, a cui si è spenta un po' una luce e hanno voglia di qualche cosa che non sanno bene che cosa sia. Usa molto la possibilità di recitare, di scene, di situazioni. Perché se non si va a scuola, che cosa si fa quando si è adolescente? Non c'è un'alternativa. Ognuno ha la sua personalità. Stai fuori è più difficile, perché ci sono mille stimoli esterni, mille distrazioni e loro vanno. La mia maniera di lavorare è diversa ogni volta, cioè non è che loro sanno che ogni volta facciamo una cosa, poi facciamo un'altra, poi un'altra. L'interesse che poi sta a noi avvicinarci, arrivare nel loro momento e capire chi sono e che cosa hanno. Una maniera di guardare il mondo, cioè più sicurezza, che non tutto è un problema. Io penso che l'artidemia apre una strada che tante scuole vorranno copiare, perché è una scuola fatta in misura dei ragazzi.